l'ho visto mi piaceva ora ho scelto quelli cucciolo tutto quello che vuoi cucciolo adesso che puoi lasciami stare lasciami stare tu carogna sono andato a prendermi le piastre le cose non voglio più giocare con voi andiamo sul tetto lo facciamo qua mela scusa un attimo mela ma tu non avevi 6.000 e li avevo e io 9.000 perché mi sono rimasti mille perché non ti ho dato tutto sì ma ti sono rimasti 800 forse hai preso qualcosa guarda bene guarda bene ok già mi stavo incazzando con il programmatore del gioco dato che due partite che non riesco a prenderlo questo giro l'ho preso attenzione ecco la quattro si salgono faccio le stun eh hanno aperto sono entrati fermi uno a terra vai bravi ho perito tutti uccido nessuno a terra ne pingo oltre i due in arrivo a 46 metri sempre da l'ho utilizzato da sotto qui vabbè sei dentro la casa non dovrei pingarlo eccolo chi è che c'è la dolce vuoto rotto a terra fatto vai scendiamo ma era sopra la si era salito soldi maschera 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 prendila 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 allora raga allo shop possiamo comprare fantasma se volete prendo prima la maschera ti do i soldi eh lo ero lo ero si li vedo la vedo movimenti gente qua gente vedo movimenti ragazzi sono i tappiani no dove sopra dai cristo vabbè perché non dovessi atterrarne uno senza mani senza cervello fa 500 danni sempre sempre per colpa del bruen del padre eterno devo morire sempre per il bruen allora dopo prendo bruen cazzo devo dirti c'è oh sempre odio sempre mi ha sciolto mi ha disintegrato sai non ce l'ha il bruen si ce l'ho ma è lei non mi piace ma che non è neanche troppo lenta per essere un mitraglione mi pronta tanto vabbè anto fa un culo gioco di merda addio porco è colpa mia ragazzi ho scelto la casa dove c'era gente no prima non so se tu non ti sei reso conto che quello ti ha saltato dietro no non ho capito niente infatti l'ho fatto a quello la però avvisato agli altri è entrato dentro c'era uno nel corridoio che mi aspettava col bruen posizionato dietro l'angolo ma dai ma poi mi hanno fatto dall'alto non so da dove cazzo viene chi è fuori dalla zona è meglio che si sbrighi si no non mi puoi dire preparati a combattere quando finisce il minuto pezzo di merda di gioco sei fuori guadagnati la libertà soldato guadagnati la libertà soldato io vorrei che vorrei più ah questo rega è mi sei è rega intendo back si non si riusciva assolutamente a prendere le armi ovviamente no no è da fuori guardate alla mia destra c'è un... qua non ce lo metto sono sicura voglio rianimarti al limite muoio anch'io noi giochiamo c'è tutti insieme appassionatamente cadè oh qui ci sono c'è ci sono oh 1.6 no niente 7.000 8.000 9.000 9.100 ci voglio credere tanto oh mitraglietta qui dobbiamo trovare 900 raga perfetto peppe oh peppe vieni qua mitraglietta qui oh bella mi posso comprare le piastre io speravo di eh non le provo in realtà non abbiamo un cazzo c'è trovare... allora affettiamo con le armi che abbiamo ah è l'unico provare eh sì tanto da qua dovrebbe scendere un loadout raga esatto 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 avete ragione la cassa corazze vai allora anto tu vado io vado io vado io allora io le compro e vi faccio andiamo tutti la veloci 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 tutti ah io le compro io le compro e vi vi riempio e vi vi riempio esatto UAP nemico in volo questo ci vede ok ma l'ha preso prendila prendila ok cazzo in arrivo zona sicura riposizionata hai loadout quando lo danno? mai eh io ho pochissimi colpi tra l'altro di che eh? di tutto mitraglietta? mitraglietta si ecco il lancio si in safe raga campo aperto anto prendi queste piccolo caribro qui raga io direi fightiamoci giochiamo normale avete missili avete missili zero no zero ah andiamo ho detto una cazzata io le avevo visti eh dobbiamo andare proprio sotto questa montagna secondo me andiamo poi non lo so eh 難ica non si pone ok sono qui ti rimeto in sesto ragazze ruota a sinistra ti restano meno di dieci puoi vincere ho detto una cazzata Lascia che si uccidano tra di loro Tra la minican Dio cane Come lo battiamo a quello con la minican? Sale da qua secondo voi Eccolo la Poi ragazzi mi sento di dover andare a terra A terra uno Lì Si Ha ragione Mela Ha ragionissima Mela davanti a te ce dovrebbe essere uno a terra Se non si è già reanimato Non uno è un tiro Manca ancora qualcuno La durata della zona Riuscite a fare poco di soppressione Uno craccato Uno è sceso raga Uno craccato Una terra Tiralo su Tiralo su No non ce la fai Non ce la fai Non ce la fai Sono del gas Fattene 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 Lascia che si fai Vedo la C'è neanche una destra Una è a terra Mela Adesso devono venire tutti da noi Mela La gente a sinistra La gente a sinistra Eccolo Una a terra Occhè la gente a sinistra Una terra Non finirlo Davanti a te Una terra Che qualcuno Che qualcuno Ma la robata di brutto Vieni Ora da tre persone Due contro uno Due team Tre persone Nice Buono Ho vinto Abbiamo vinto Ragazzi ho trovato un m13 della madonna Ma che roba è questo m13 Appena sparava andava da terra Porco si Mela Tanta roba Volete sapere che è stata tanta roba La scelta di mela è di andare da destra A sinistra va morto Sicuro Sicuro Grande mela Sì ma guarda che Pure nel gas Sembile e salmi morì In cento per cento Sì? Ah sì Perché non avevo la maschera Sì si morì Fanculo va Che parte Che abbiamo vinto Ragazzi Eravamo spacciati Bella Questa è E' il vantaggio di avere mela come amico Vedi Le vittorie Anch'io mi vorrei come amico È vero Ah la Uri che ha cominciato a trovare le mani Guarda Uri che ha trovato le mani E non ha fatto l'ultimo fight Penso se faccia un'altra 10 kill si faceva C'è chi ha eva il mani Non stanzo Grazie a tutti.